Il mercato è sempre presente, non può mancare. Presentiamo, oltre che i conosciutissimi prodotti a base di resine poliestere e protettivi, abbiamo ampliato ulteriormente quella che è la gamma dei prodotti epossidici. Il mercato sta andando sempre di più verso l'incollaggio e verso la stuccatura di materiali compositi. Il Cere si presenta quest'anno con una gamma di prodotti a base di resine epossidici ampliata e completata. Partendo dal già conosciuto Epoestere, abbiamo aggiunto altre colorazioni, bianco, nero, botticino, paglierino e trasparente. Altro ampliamento per quanto riguarda l'Iridium, un prodotto a base di resine epossacrilate, che consente l'incollaggio di materiali compositi. Possiamo offrire anche il colore, oltre che il trasparente, il colore bianco e nero. Abbiamo rinnovato il vestito della gamma degli epossidici tradizionali M25, M26 e M27 e al top della gamma troviamo l'apprezzato R5A resina solida trasparente e l'R1A resina liquida trasparente. Grazie. 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 Grazie.